In Italia sta cambiando la tv. Collega la tua tv o il decoder a internet. Dal 5 marzo saranno disponibili nuovi servizi. Anche noi con Rete Biella TV stiamo lavorando per offrirvi una tv rinnovata. Nuove possibilità per seguirci ovunque. Rete Biella, una tv più interattiva su nuove tecnologie all'avanguardia. Ma non dimenticare di collegare la tua tv a internet con il wifi o il router. Vi sorprenderemo.